Due mucche chiacchierano in mezzo a un prato, una dice all'altra, senti, tu sei preoccupata per il morbo della mucca, pasta e l'altra, e perché dovrei? Io sono una gannina! Buonasera Lorena! Simone Merini, che ho scoperto, una volta è stato fermato da dei turisti inglesi, perché ti hanno scambiato per chi? Vediamo se lo riconoscete! Hello, Mr. Dean! Senti, ma le barzellette ce le racconti in inglese o in italiano? No, no, piuttosto in bolognese, sono di Bologna! Oh, in bolognese, allora facciamo un bel applauso a Simone! Numero 7, Simone Merini! Un signore impaziente, in sala d'attesa, per la nascita dell'imminente figlio. Poco dopo esce finalmente un'infermiera con un bel neonato fra le braccia. Lui va incontro, glielo prende e tenendolo da sotto il sederino esclama, è un maschietto, è un maschio, è un maschio! E l'infermiera? No, è una femmina! E il padre? No, le dico che è un maschio! E l'infermiera? No, è una femmina! Se mi lascia il dito!